29 maggio 2015, oggi sono a Este in provincia di Padova e questa è la posizione dove è stata fatta la prova sismica con il tromino, quindi sismica passiva a stazione singola, per un progetto che riguarda un ampliamento di questi fabbricati. Questa è la zona, ci troviamo quindi nella pianura di Padova e il terreno, siamo in condizioni morfologiche e geomorfologiche di pianura piatte. Non si segnalano problematiche geologiche particolari, è sullo sfondo una delle posizioni delle proprie elettrometriche dinamiche.